Durante il discorso del Sindaco, lo scorso 16 agosto 2013, alle ore 18, in strada Romea numero 5, sono stati distribuiti nastrini colorati da allacciare al braccio. Nella giornata dello scorso 17 agosto 2013, come segno di protesta non violenta per i tanti disservizi che si debbono subire soprattutto in montagna. A. Cattivo funzionamento nella distribuzione della posta. B. Cattiva ricezione dei canali televisivi, soprattutto dopo l'installazione del digitale terrestre. C. Cattivo funzionamento delle ferrovie e condizioni delle stazioni. D. Cattivo funzionamento della Vodafone e Telecom. E. Cattive condizioni delle strade statali. Il Sindaco Luigi Lucchi ha affermato Abbiamo già tante lacune come amministrazione comunale. Vivere in montagna poi rappresenta un lusso, per i costi del riscaldamento, per l'obbligo di usare spesso l'auto, per i tanti sacrifici da affrontare durante i lunghi mesi invernali. Non possiamo accettare in silenzio altri soprusi, altro disinteresse da parte dello Stato. Come Sindaco, ha affermato Luigi Lucchi, ho sempre cercato di fare valere i diritti degli abitanti di Berceto. Ho cercato di coinvolgere anche gli altri cineci, ma verso le poste, la RAI, le ferrovie, la Telecom e la Vodafone, ho sempre trovato un muro di gomma. Egli ha concluso Se aderiamo in tanti a questa iniziativa probabilmente riusciremo a farci sentire ed in tutti i modi verrà data più forza al Sindaco per farsi sentire pur amministrando un piccolo comune.